eh ma sicuramente è locata però e poi viene male per lo scendere no c'erano dei veicoli, hanno due, due di colperi ah ok vero vero vero, un mozzi e una gunship ok allora un mozzi è una gunship eh si scusa un mozzi quello Mario fai esplodere la gunship volentieri ce la vedi? si vai aspetta fammi che magari si porta presso pure il black hawk hai capito? vai vai spara 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 lo spara 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 secondo voi è resistente cioè tecnicamente un po' dovrebbe spara bene al rotore che è delicato aspetta faccio pure più con col 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 ma fa tipo fa sabbia eh è sabbioso è sporco non lavano i propri veicoli che brutta gente madonna facciamo il gruppo e bene ok smetti cioè non è normale che non esploda spara il coso eh no vedi quello fa scintille e quell'altra fa sabbia che cosa stramba vabbè spara un pochino al black hawk dai si continua a fa sabbia quella cosa sparaci per bene nei punti delicati però eh è che a me piace quando esplodono i veicoli ma qua non esplodono mai cioè la fatta è che si esplodono mai noi ci stiamo vicini eh ma non esplodono boom eh magari guarda magari uffa niente boom vabbè ti dico finisci il caricatore finito ok allora ricarica e andiamocene eh sono troppo resistenti Anna la seconda base dove sta? allora la seconda base che abbiamo nella lista è a 26 11 0 26 0 11 è il cubo bello che ti è piaciuto tanto a te che ci si può entrare solo dal tetto aspetta ma quello ti avevo detto di segnarlo sì sei sicura? sì perché mi sa che quello non c'era un amerito cazzo dentro no aspetta allora no vediamo forse per quello avevi detto che volevi prenderne direttamente il possesso grazie ma studiamo come prendiamo il possesso delle baci eh no perché non ho il plot pole appresso però questa qua non c'è un cazzo dentro mi pare sai avevano il plot pole di fuori se non sbaglio ah no aspetta aspetta ah ma questa è questa vuota eh? è quella con le scale strane eh eh è vuota questa qua ci hanno anche fatto l'evento degli admin ieri sera e io mi ci sono messo appostato a 1500 metri cercando di check in armi eh un'altra Anna veloce eh un'altra Anna veloce questa comunque non te la potete disegnare no adesso ho il ksvk perchè dell'ello 115 ci ho sparato così per ieri ci prendeva eh solo che siccome loro erano dietro quella fessura allora non passavano era proprio difficile riuscirli a prendere al pelo ma Anna tu sei sicura che mi stai leggendo le basi che t'ho detto ieri perchè questa t'ho detto di non segnarla io eh nel cubo di lisina eh ok che è vuoto ma ti dico la prossima no questa qua che mi stai dicendo adesso va bene credo vediamo capanno attaccabile questa è questa è medvescoie qua ci sta la cassa di armi vedete è sotto di noi a fianco alla torre no ho visto ah a fianco alla torre del calo degli fps esatto sembrava di stare a giocare a Realmo e mi ricordo no ho giocato su Stefano sembrava di vedere una presentazione in powerpoint io non le so fare l'hai visto ma un po' mi rossica il fatto che non le sappia fare allora eccoci ah si questa me la ricordo è un capanno questa potrebbe essere buona ed è anche abbastanza fresca perché oh l'hanno ampliata guarda che schifosi guarda che schifosi questi sono degli schifosi questi sono degli schifosi qua alla diga alla diga ci spawna una delle casse sa cosa hanno fatto sti pezzi di merda? se la sono chiusa guarda sotto di noi ci sta quel recinto dentro ci sta la cassa che bastardi che poi si tecnicamente si però noi ci facciamo giustizia da soli quindi Stefano devi sfondare la porta metallica aspetta la metal porta un po' come metal Mario posso fare lezione? si qual'è la porta? questa qui di porta? vado il muro no 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 dove cazzo sei? la porta metallica qua capanno ah il capanno non la carta scusa capanno capanno tra l'altro non so se dirti sfonda quella perché è l'uno qualche muro qua sta cassa ce lo potremmo buttare giù ci starà roba dentro nella cassa si ma magari dopo ci buttiamo giù pure il muro tanto Stefano vai di lato sfonda sfonda ma scusa non riesci a targettare la cassa da qua sopra no ti sicuro? ho provato per non buttarmi giù no se ti butti giù è un casino qua qualcuno gli ha messo la scaletta eh no non si riesce magari qualcuno c'è solo un caso dentro guarda che bel panorama ho messo una canna da pesca no ti sparo le gambe certo che potevamo portare due due motoseghe chi cazzo ha il cane in agitazione? eh non lo so chi ha il cane cabaio boh madonna mo ti sparo Stefano no non spararmi please a nulla guarda che non ci stai prendendo eh come no? ah ok ragazzi aspetta un attimo che si fa a caricare le munizioni? io non me lo da eh? ma al cota? all'elicottero eh a damo eh non me lo da a damo allora prova ad eva ad amo ad eva che schifo che schifo ti è piaciuta questa è mario mario oh oh che schifo non mi fa pescacqua che schifo proprio mamma mia ti posso sparare in testa ma sparagli nelle gambe dai comunque questa cosa è un po' strana eh perché mi fa fare a damo dall'altra parte qualcuno di voi ha baggato la mitragliatrice davvero no? ed è stato quello di sinistra chi era il coglione a sinistra? non lo so eh io si mario sei stato tu? spina mannaggia oh va io ne faccio di danni ma stavolta non è colpa mia no mi fa fare a damo dall'altra parte cosa faccio? l'ho fatto no è perché non c'è una motosega solo chi in puglia la mangia una motosega a viola può aggiungere le ammo a sinistra aspetta ci provo io se avete rotto le gambe mi mette i motosegana per piacere non ti puoi fermare eh? vabbè ok c'hai ragione ti morfizzo io fermo continua eh come si è fatta non fa nulla devi usare una cazzo di motosegana se gli dai i penkiller ti ammazzo a me non lo fa fa a damo a sinistra ok fallo e scendi se mi giro di bottona mi motosego no che ci sono solo io aiuto che c'è? che è successo? niente mario ci stanno ok scendi prego ma come avete fatto a zopparlo senza sparare? io ho sparato come? non ho sentito perché non mi dare un po' di morfina? te l'ho data la morfina non è vero c'ho ancora i gamberotti continua a sfondare la porta quando avrai sfondato la porta potrai avere un pochino di morfina ma la morfina mi piace non ho bisogno no allora mi sa che è il destino che rimane il zoppo sfonda stefano quanti caricatori hai usato? uno? neanche uno sì una qualcolta dai ok ti do una mano oh grazie se no non finiamo più 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 queste porte di metallo sono resistenti avrei preferito se le avessero fatte un pochino più mollicce tanto si sfondano quindi che cazzo ti costava? ok è andata eccola aperta aperta vedere 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 non spoilerate guarda che c'è una lucertola ehm vorrei dire una getta fammi vedere un po' hanno una casa piena di coca e cole ok vediamo uh un'altra motosega perfetto qualcuno di voi se la prende ehm oh una tannica di benzina per motosega stefano prendi su poi hanno hanno due crowbar se qualcuno di voi non ce l'ha se la prenda perché è utile poi hanno oh una morfina large v2 vabbè queste cose ci servono ancora poco una morfina un morfina mi sarebbe vabbè la motosega Mario anzi Anna tu prenditi la motosega metto nello già e prenditi anche stefano lascia gli la la tannica piena ah si ok così abbiamo due con la motosega e mo sfondiamo e mo sfondiamo quell'altro si e ci freghiamo le loro armi che si sono bloccate bastardo e ci ci mettiamo un cartello che ho scritto zingari aspetta che gli inculo anche il plot pole se riesco tutti quanti tutti quanti questa è la tecnica per vincolare i plot pole no di prego dito destro sul naso ah vero fatelo è importante dito destro sul naso dito sinistro sulla palpebra e ora girate col dito sul naso piccoli cerchi con la punta del naso e poi il dito sull'occhio avanti e indietro sull'occhio no si è rotta chi cazzo è che non l'ha fatto bene stefano devi mettere aspetta ci riproviamo ora allora cosa ho rotto però la toolbox qualcuno ha una toolbox io ce l'ho mettimelo nella tenda bianca allora il dito destro sulla punta del naso e fai dei cerchietti col naso proprio sulla punta poi invece il dito sinistro sulla palpebra sinistra e lo muovi tipo come se ti stessi grattando l'occhio capito ok tutti abbiamo capito è importante se non lo fate bene si rompe ok vai dito destro sul naso girare dito sinistro sulla palpebra gratticchiare vai zitti dovete avere fede se no non funziona mario lo stai facendo no si è rotta di nuovo è stato mario dove cazzo è no no io lo faccio sempre ma dai ma l'avamo fatto pure il karma mi ha detto che eri stato tu no lo stavo a fare benissimo Anna Bendal qualcuno ha un'altra toolbox no davvero io ti vieni mettila nella tenda bianca aspetta qua vieni a prenderta nel mio zaino come cacchio sei sono da dar un'altra porta ah ok Anna vai anche tu sfondate questa porta qua anzi no la porta piccola non so se è distruttibile sfonda un muro questa questo muro qua occhio mettetevi uno da una parte e uno dall'altra zitto voglio avercene poco ancora non ho dovuto a fiume anzi a lago mettetevi uno da una parte e uno dall'altra un attimo che io devo fare il fill si ma Stefano tu come fai a mettere il dito sul naso se stai motosegando vabbè non fai ma io non posso fare fill perché non ho la toolbox oh oh ah cazzo adesso non posso fare fill ok ok allora niente se la Anna prendi dal mio zaino cioè ma che cazzo è che serve una toolbox prenditi questa toolbox e fai fill si mette la benzina nella tua motosina il metropo ottiene 100 punti presa si si sto anche facendo fill voi sfondate e io vado ad ammazzare Mario